E ragazzi, come va? Io sono Fireniki E io sono Steph, e questo è Giochia Mattabs E siamo tornati sul simulatore di battaglia più famoso del mondo Non ricordavo tutto il nome, quindi me lo sono inventata Ok E anche oggi scommetto che ci vorrei deliziare con una delle tue storie, giusto? Sì, allora, io so che i consolini non riescono più ad andare a scuola Non riescono più a mangiare, non riescono più a fare nulla A dormire Perché stanno aspettando troppo Perché hanno gli incubi La mia nuova storia Ok Non ridere, sei colpevole, non ridere No, 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 no Hanno talmente tanta voglia della prossima storia Che loro non riescono più a fare nulla Perché pensano solo a quello Quindi mi sono sentito in colpa E ho sentito il dovere Il dovere morale Il dovere morale di continuare questo gioco E di continuare a raccontare le mie storie E di traumatizzare la vita dei consolini Ok, possiamo iniziare? Dai, narra un po' quello che si è tolto fuori oggi Allora, prima di tutto non so se hai notato che siamo in una location diversa Giappone, sì Sì, ho notato Siamo in altra parte del mondo Alberi di fiori di ciliegio In Giappone E quello che è successo È che in questo momento C'è un'invasione dei samurai Ok Però è il giorno d'oggi Cioè siamo nel ventunesimo secolo Sono sbucati dei samurai Non si sa bene da dove Loro sono rimasti con la testa ai loro tempi E hanno deciso di invadere tutto Ok Non c'è più nessuno che sa fronteggiare i samurai Perché non ci sono più soldati nel mondo Perché siamo in un mondo pacifico Tecnicamente ci sono i carri armati Le bombe No Siamo in un mondo più bello Ok Quindi in un mondo ideale Esatto E quindi chi c'è a difendere le povere persone Che adesso si trovano questi samurai impazziti C'è il nostro supereroe Come si chiama il nostro supereroe? Che ho tolto per sbaglio Superbomber Superboxer Superboxer quindi Superboxer ci difenderà Però io gli vorrei dare un nome d'arte Perché secondo me Un supereroe ha bisogno di un nome Un po' più semplice Un po' più alla mano Un po' più per tutti Gino Ok No? Non ti piace? Almeno glielo potevi trovare più carino Eh da solito Allora Ci ho pensato tutta la notte Di nomi come Spider-Man Iron Man E tu me lo chiami Gino Eh Super Gino Bat Gino Super Gino te lo accetto Spider Gino Ult Gino E basta Ma li devi dire tutti? Sì Devi dire tutti Tor Gino Abbattetelo ragazzi Abbattetelo finché siete in tempo Siamo qua Arrivano i samurai Ne ho messo Quanti sono? Due Quattro Sei Otto Un'invasione piccola dei samurai Perché bisogna vedere quanto è bravo Magari questa è un'invasione iniziale Sì diciamo che stanno testando il terreno Per capire se è un posto che si può conquistare E quindi vediamo un po' Quello che succede Super Gino si è allenato tantissimo Io non so neanche che abilità abbia Neanche io ovviamente Però Cioè sembro io quando mi arrabbio È fantastico Ma che sembri tu È uguale a me Che poi hai visto che ha anche gli occhi Proprio illuminati È andato lì Po 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 Comunque loro hanno ragionato in questo modo Ti spiego il ragionamento dei samurai Che sono delle persone molto intelligenti Ah ok se è anche quello Certo Certo nella storia c'è sempre tutto Ci sono entrambe le parti Non è solo la parte del nostro supereroe Ma anche la parte della civiltà Che decide di invadere Beh giusto giusto Si sa sempre la storia dei cattivi Hanno fatto Noi avevamo la spada Questo ci ha preso a cazzotti Forse è meglio provare col calci Ah giusto Capito? Mi sembra un ragionamento giusto di logica Lo so Secondo me non ce la fa Quindi calci contro pugni Secondo me sarà la caduta di Supergino È impossibile per Supergino Cioè guarda Però non si arrende Non si arrende È proprio un supereroe Questi danno calci comunque in una maniera bellissima No non ce la farà mai Forza Supergino continua Io non l'avrei mai detto No 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 Supergino No Supergino Che fine triste Io non pensavo che potessero realmente cadere fuori dalla mappa Ma sono cascati tutti Quindi non vince nessuno Chi vince? Quel Supergino lo vedo ancora che si illumina lì sotto Perché secondo me Supergino ha scoperto di sapere volare No hanno vinto i giapponesi Non sa volare Supergino Allora a questo punto Sì Come ogni degno supereroe Io ti suggerisco di procurargli un aiutante Un aiutante Perché da solo è finito fuori dalla mappa Quindi ha bisogno di un aiutante Ok 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 Perché tutti i supereroi ce l'hanno Hai ragione Hai ragione Secondo me Non proprio tutti ma va bene Gli aiutanti di Supergino Sono i chicken man No Perché non abbiamo più delle persone che combattono Quindi delle persone armate Però non toglie che magari abbiamo delle persone Supergino Che sanno fare cose molto particolari È l'esercito di galline Quindi noi mettiamo Questo può essere un libro eh Io te lo dico Può essere un libro Mi immagino già la copertina del libro con Supergino così E le galline dietro Guarda che cosa incredibile che succede adesso Proprio un livello che non si è mai visto Vedi? Vedi? No non stanno andando molto bene Gli stanno tirando galline in faccia Io non ci credo Però vedi grazie chicken man Supergino ha un po' di genti meno da picchiare Più o meno Perché poi stanno inseguendo quell'altro poveraccio E continuano a tirare Supergino devi riuscire a fare una breccia nella loro ordata Perché altrimenti Vai Supergino Ti spingono Stai arrivando ai samurai I consulini credono in te Ti stanno mandando la loro forza Vai Supergino Vai Ne mancano pochi Ce la fa E vanno ad aiutare i suoi aiutanti Ce l'ha fatta Supergino vince Te l'ho detto Supergino vedi sì Sono gli alleati perfetti Mi sembra giusto Supergino ce la fa Incredibile Perché gli danno un po' di supporto E quindi lui ce la fa Allora Allora La storia si è evoluta molto in fretta Quindi devo un attimino spiegarti cosa sta succedendo Prima di tutto Ti informo Che se riusciremo comunque a difenderci da questo battaglione qua Quindi da questa invasione Mancherà soltanto il super cattivo finale È giustamente Certo Il super cattivo finale È lui E vabbè Quindi Per supergino ci sarà una prova davvero difficile per battere il cattivo più cattivo Ma vedremo quando arriverà il problema Allora i ninja sono arrivati Sono tantissimi Una roba incredibile Ma è successo un colpo di scena E infatti ho una domanda Sì Cosa ci fanno questi di fronte Questi box Guardali bene Che ci fanno Guardali bene Sono tutti fan di supergino Hanno visto le gesta di supergino alla tv Mentre difendeva il paese Mentre li difendeva Si sono innamorati delle geste di supergino E hanno deciso di arruolarsi Di scendere in campo E di diventare come lui Ovviamente non sono forti come lui Perché comunque Sono persone normali Sono civili Cioè normali Sì sono dei civili Sono alle prime armi Di conseguenza Cercheranno di dargli una mano E vedremo se supergino ce la farà Sei pronta? Sì Andiamo E vediamo Vai supergino Il popolo è con te No ce la facciamo Il popolo è con te Supergino Il piccino è già abbastanza Dai Oh mamma mia Guarda gli shuriken quanti ne volano Lo so Lo so Guarda supergino Guardate supergino È costellato di shuriken Non gliene frega nulla Vai supergino Guardalo vai Sei fortissimo Ho messo No è rovinato la battaglia È rovinato la battaglia Dove l'hai messo poi? Dove? Perché è qua? Ed ecco supergino È rimasto da solo È rimasto da solo Dove sta andando? Io la vedo grigia Ehi Sta facendo la curva Ci mette un po' lui Super No Allora Sono stati totalmente inutili Quelli che erano con lui Sì Supergino non sta andando molto bene Secondo me devi rimettergli i suoi aiutanti Dici? Sì Sì No sai cosa ha detto? Ha detto Grazie ragazzi Amo il vostro amore Il vostro supporto Ma non voglio che Vi feriate per me Giustamente Io sono qui per difendervi Ed è il mio compito E quindi Dovrò farcela da sola Con i miei aiutanti Chicken Man Guarda come Continua A restare in piedi E ce la fa Grandissimo Con i suoi super aiutanti Ce la fa per forza Grandissimo Ce la fa super Però È il momento Sta arrivando lui Sta arrivando il super cattivo Che non siamo mai riusciti a battere Ma di già Di già In nessun modo Sì E beh abbiamo fatto fuori samurai Quelli che fanno tecondo I ninja Cosa rimaneva scusami Giusto Vai Abbiamo proprio sterminato Tutto quello che c'era da sterminare Secondo me dovrà reclutare altre persone Supergino Perché è davvero forte lui È davvero forte Io ti dico questo Si evolve Cioè Improvvisamente Ha un'evoluzione E passa a super peasant Super pisant Super pisant Non so come si dica Non so neanche che cosa sia Però guardalo Lo capisci? Ma che cos'è? È più forte di prima Ed essendo più potente I chicken man Arrivati dalle montagne Perché loro vivono in montagna Ci tenevo a precisartelo Arrivati dalle montagne Ha detto No Questa volta Dobbiamo rischiare tutto Dobbiamo appoggiarlo Se Se non riusciamo a difenderci Lui distruggerà tutto Quindi Mettiamo In gioco Tutti i nostri Super chicken man Che sono cinque Cinque? Sì Vivevano nelle montagne In cinque? Sì Eh beh Giusto Un piccolo villaggio Anche perché poi Dal sedere gli escono Uomini Che paraflesciano galline Quindi Cinque super chicken Per cinquecento Chicken man Per cinquecentomila galline Perché questo è il rapporto Certo Capisci? Mi sembra corretto Comunque Andiamo Vediamo se riusciranno In questo modo Io la vedo grigia A sconfiggere super cattivo Sono molto più sinistra La vedo grigia La vedo grigia Ti dico la verità Anche perché Aia Ah Li sta prendendo tutti Sì 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 Dov'è il nostro super gino? Dov'è finito? Dov'è? Super gino? Ehi Super gino? Super gino? È scappato? Ma secondo te Sì Si può battere questo tipo di cazzo Hanno vinto però Sì Perché io pensavo rimanesse lì coperto Dal suo guscio di spine E quindi uccidesse tutti Invece ce l'hanno fatta Vedi super gino era lì dentro A dare i cazzotti Esatto A dare i colpi Mentre noi non lo vedevamo Perché giustamente Stava combattendo per noi Però ce l'ha fatta Bravo super gino Ho una teoria Le galline Battono le mura Che forma questo super cattivo Sì anche secondo me È l'unica spiegazione Si infilano da sotto Perché non sai mai da dove arrivano Queste galline Quindi Giustamente Sono superiori a tutto Davvero fantastico La vittoria è giunta E i super chicken man Se ne sono tornati Nel loro In montagna Nel loro villaggio Di 5 abitanti Di 5 abitanti Ma 500.000 galline Sono tornati a vivere La loro vita Normale Tranquilli Pensando che tutto fosse finito E invece no Che succede? E con passo Che succede? Un nuovo cattivo Che è 100 volte più cattivo Di quello che abbiamo Appena sconfitto Ma sono troppi Lo so Sono troppi Lo so Sono 10 Eh appunto E sono forti Lo so Quindi Non ce la può fare Super Gino Siccome è passato Comunque del tempo Ok I super chicken man Sono tornati Nella montagna Insomma Sono passati anni Abbiamo capito Tutti sono tornati a vivere La loro vita In modo normale E cosa ha fatto Super Gino Ha messo su famiglia Ok Ok Quindi ha messo su famiglia E indovina un po' Sono tutti uguali Ok Sono in 5 Lei è la moglie Gina Ok Lui ovviamente Super Gino Ma lo riconosci da sola Lei non c'è bisogno Certo Lui è Tino Lui è Non ce la puoi pire Gino Gino Tino Tina Pino Pino Che famiglia La famiglia dei fantastici 5 Ok Ce n'è uno di troppo Comunque E non urlare Quindi In poche parole Stanno arrivando L'esercito di Trump Che vogliono Totalmente stravolgere Questo mondo Penso a un Trump Per ogni nazione Travolgerebbe tutto Stai degenerando Lo so Loro sono in 5 La super famiglia Che difende tutti Vediamo se ce la fanno Non ce la fanno Neanche secondo me Non ce la fanno È una sfida davvero troppo difficile Anche perché loro Devono arrivare fino ai Trump Che invece potranno sparare Potranno sparare Vediamo Ma stanno volando Ma stavano volando Hanno imparato a volare Ma c'è troppo Non si vede nulla Ma li hai visti che due Questi erano incastrati Dietro un albero Non capisco più E vabbè pure i muri Attenzione ragazzi Lo so che non vi aspettavate Guarda l'atterrato Mi sa che abbiamo perso Ma malamente abbiamo perso I muri erano troppo potenti I muri sono troppo potenti Sì Non è possibile La famiglia dei Fantastici 5 È stata sconfitta Quindi hanno dovuto chiamare degli alleati Giustamente Indovina chi sono Non lo so I Super Chicken Man Di nuovo Si hanno disturbati Tornano in campo Però c'è una novità Ok In tutto questo tempo Anche loro si sono continuati Ad espandere Hanno fatto figli E di conseguenza adesso sono ancora di più Ok Quindi li stiamo disturbando Infatti la famiglia dei Fantastici 5 Si sente un po' in colpa Per questo Perché sanno Quanto loro vivono bene Nel loro bellissimo villaggio Ok Però comunque c'era bisogno di loro Perché altrimenti il mondo Era impossibile da difendere E quindi Eccoci qua I Super Chicken Man Guarda quanti sono diventati Ormai è un villaggio gigantesco Bellissimo Proprio una metropoli Una metropoli di galline Sono arrivati a difenderli Sei pronta? Sì I Fantastici 5 Per il piano ho pensato una tattica Ok Di partire da dietro Sì Mi sembra giusto Dato che poi ci sono quei muri A dare molto fastidio Mi sembra giusto Mi sembra giusto Nel mentre così ci saranno le galline Che sonderanno i muri Capito? Certo E questa è la loro tattica Le galline sondano i muri Sfondano tutto Sfondano tutto Eccole Iniziano ad arrivare le galline Ma come arrivano? Guardale Guardale Una tempesta Comunque vedi che I Fantastici 5 Vedi che stanno volare Sì volano Guarda lì Adesso Si buttano proprio Capito? Guarda lì Ah ok Vanno in discesa rapida Però i muri li bloccano Certo Ma le galline passano attraverso Le galline passano attraverso Qualsiasi cosa E i muri crollano Guarda Stanno buttando giù tutto La battaglia non finisce più Ma le 500.000 Galline del villaggio Sono decisamente Tutti arrivate qua Guardate 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 Sono infiniti Comunque Io devo dire una cosa Devo essere sincero Devo essere imparziale In questa battaglia I Trump Sono davvero valorosi Cioè comunque Guarda Quante galline ci sono E loro continuano A restare qua Con i loro muri A non farsi buttare giù È davvero Una roba incredibile La battaglia è finita Ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto Gli abbiamo sconfitti Abbiamo flipato il gioco Cioè guardate Cosa sta succedendo Il gioco è fermo Cosa sta succedendo Ci sono Ho capito cos'è successo È impazzito Dopo la battaglia È stata troppo lunga È troppo dura È convinto di poter scalare gli alberi Guardalo Guardalo E poi perché queste povere galline Non si muovono Super Gino È davvero il supereroe finale Batte tutti gli altri supereroi Misi insieme Io sto pensando Due ore al tuo Dark Paisant Non mi ricordo Come si chiamano E come si dice Fammi vedere Dark Paisant Ti piace di più Sarà Dark Paisant Ma dirmelo Dark Paisant Non mi ha fatto sentire Metà di quello che tu hai detto Perché quando Storpino È una cosa Vabbè Non mi prende in giro Per favore Ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuta Anche questa storia Speriamo che comunque Non vi siate disiscritti Dal canale È già qualcosa Non c'è bisogno Che l'appreziate Basta che non vi disiscrivete Dopo che vedete Un video del genere Giusto? Noi ci accontentiamo così Già così Ci indicate Che c'è tanto amore Verso di noi Che facciamo questi video No tu li fai Io ascolto E tu mi segui Ma tu lo fai Sì ma tu mi segui E mi supporti E beh Super Gino Ormai C'era affezionata Era una serie Molto toccante Super Gino Poi con la sua famiglia Ancora meglio Comunque guardate Il gioco dice Che l'impatto Di questa battaglia È light No perché Non ha capito La potenza Di Super Gino Esatto Siamo riusciti A bloccare il gioco Quando il gioco Non pensava di bloccarsi Tanto era importante Questa battaglia Comunque ragazzi Ci fermiamo così Speriamo che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo domani Spero che ci riusci così Se ci riusci un like E se è la prima volta Che vi ho dato il nostro video Potete considerare I dati stringono E per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao